Intermodalità è la parola d'ordine con la quale Ferrovie Italiane e Comune di Pescara hanno firmato la convenzione che avvia il progetto di riqualificazione della stazione di Pescara centrale nell'ambito del disegno complessivo di realizzazione del parco centrale cittadino che prevede parcheggi e anche un tunnel sotterraneo per il passaggio dei mezzi su gomma direttamente collegato ai binari ferroviari, un hub insomma previsto nel piano della mobilità sostenibile del Comune di Pescara. Il concetto è che l'operazione di riqualificazione dell'area ex di risulta, noi piace chiamarla parco centrale passa anche attraverso una valorizzazione dell'immobile della stazione che è uno spazio enorme, grandissimo frutto del gigantismo degli anni 80 e oggi c'è questa necessità da un lato favorire l'intermodalità e poi c'è il tema dell'uso degli spazi lì presenti, spazi che sono destinati a servizi primari ma anche a servizi secondari come in molte stazioni italiane a servizio dei viaggiatori ma con la possibilità comunque di destinare una quota di questi spazi anche alla luce delle previsioni urbanistiche di settore all'uso pubblico. Questo naturalmente è subordinato all'avvio dei lavori dell'area di risulta. L'amministrazione adriatica insieme a Ferrovie punta come detto a rendere vitale il gigante oggi abbandonato, cioè l'edificio della stazione centrale, anche per combattere criminalità e degrado. Giulio Del Vasto, direttore compartimentale di RFI, ha annunciato che proprio oggi sono partiti i lavori di rinnovo delle cinque scale mobili all'interno della stazione ma tutti gli spazi vuoti e inutilizzati che oggi offre la stazione pensata negli anni 80 sono di difficile gestione. Secondo l'amministratore delegato di Cento Stazioni Sara Venturoni che nel cognome tradisce le sue origini terramane il progetto può far tornare la stazione al centro della vita cittadina. Con risorse a disposizione, lato rete ferrovia italiana, sulla riqualifica degli spazi e sullo sviluppo dell'accessibilità e dei servizi interni alla stazione lato comune sulla rigenerazione dell'area di risulta con la realizzazione di un parco urbano che non ha precedenti in Italia anche dal punto di vista delle dimensioni per la città di Pescara rimettendo a posto tutti i servizi di intermodalità e privilegiando la qualità dello spazio urbano destinata alla pedonalità, alla ciclabilità quindi rendendola un effettivo spazio a servizio della collettività l'intermodalità invece su gomma e questa è una scelta che riscontriamo nelle linee strategiche del piano urbano e della mobilità sostenibile del comune di Pescara dimostra che l'amministrazione intende rivitalizzare la città anche puntando su delle forme di mobilità che sono delle forme di mobilità moderne.